Però sembra chiaro che questo virus può in qualche modo, in certi casi, influire sulle nostre capacità mentali. Molte persone lamentano a settimane o anche mesi di distanza dal giorno in cui sono state dichiarate ufficialmente guerite una sorta di nebbia mentale, difficoltà di concentrarsi, difficoltà di memoria, stanchezza e fa parte di quegli strascichi a breve, medio e lungo termine che vengono registrati abbastanza di frequente. Sembra che riguardino una persona su 20 fra quelle che hanno manifestato la malattia. Soprattutto persone che magari non hanno manifestato la malattia in maniera particolarmente grave ma hanno avuto sintomi diversi, più di un sintomo. generalmente almeno quattro sintomi, non so, oltre la febbre, la tosse, la difficoltà di respiro, anche qualcosa altro. E sono spesso persone giovani con un'età magari compresa fra i 18 e i 49 anni.